BAM Strategie Culturali BAM Strategie Culturali è una società cooperativa che è nata a Bologna nel 2012 da quattro ex compagni di università che hanno iniziato il loro progetto di impresa già tra i banchi dell'università e poi sono diventati un'associazione culturale prima e una cooperativa poi. Studiavamo economia della cultura, volevamo lavorare nel settore culturale e abbiamo creato una realtà che si occupa di servizi, consulenza e progettazione proprio per il settore culturale, per le imprese culturali e creative. Lavoriamo nel campo dell'audience development, quindi nelle politiche del pubblico per le istituzioni culturali, lavoriamo nel campo delle digital strategy, cioè nel modo in cui il settore, i professionisti culturali possono stare sul web in modo efficace, convincente, al passo con gli strumenti di oggi. Il finanziamento di Funder35 ci servirà proprio per proseguire questo percorso, strutturare maggiormente la nostra capacità di stare sul mercato e dirigere il nostro business, il nostro modo di fare impresa in direzioni diverse. I servizi che noi forniamo non sono immediatamente riconoscibili, quindi abbiamo avuto sempre un problema proprio a comunicare, a far capire quello che facevamo e a entrare in un settore, quello dei servizi per la cultura, in cui si muovono soggetti molto più grandi di noi, molto più maturi. È difficile fare la giovane società di consulenza, le società di consulenza sono sempre percepite come qualcosa di molto più incravattato e paludato di noi e noi abbiamo cercato di farlo in maniera molto più fluida, diciamo, in bicicletta e non in auto blu. E questo ovviamente ci ha dato una certa difficoltà all'inizio. In questi anni però un mercato ce lo siamo costruito e adesso dobbiamo sicuramente fare il passo più importante, quello di diventare una realtà che sta sul mercato in maniera credibile e definitivamente affermata.